9 maggio 2016, blitz dei carabinieri del comando provinciale Dauno nell'ambito di un'indagine finalizzata al contrasto dell'assenteismo presso gli uffici comunali di via Sant'Alfonso degli Cuori a Foggia. Stanati i furbetti del cartellino, filmati i dipendenti che a turno marcavano i beige dei colleghi assenti. 13 di loro furono perciò raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare alle resti domiciliari, 7 invece dalla misura interdittiva con sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici. Il reato, truffa ai danni dello Stato, misure emesse dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica. I 20 erano stati inoltre sospesi dal servizio. 4 agosto 2016, a maturare, 18 licenziamenti, un'archiviazione per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a seguito di pensionamento e una sospensione dal servizio di 30 giorni, già scontata dal dipendente rientrato in servizio. Decisioni queste assunte dall'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Foggia a seguito delle audizioni dei dipendenti ed un'attenta valutazione della vicenda esaminando il materiale a disposizione.